State vedendo bene? Sì, sì sì Allora vedete i fangu... Bentornati, fratelli di Tuberanza, in una nuova video reaction ai video sul trio Tarallo, ovviamente, insieme a Blaziken68 Ciao ragazzi, benvenuti, come state? Tutto bene, grazie mille, prima di cominciare mi raccomando lasciate un bel pollicione all'insù Ciao a tutti ragazzuoli! Arriva troppo bello per essere vero, insomma, vabbè Ma infatti, comunque sia, boys, dicevo, prima di cominciare, pollicione all'insù perché avete fatto un botto di video in quest'ultimo periodo E sappiamo che ce ne stava alcuno sullo sburrosauro Allora, senti Eh bro, sì, dimmi Allora, io non vedo l'ora di vedere quel Joseph col cappellino Beh, non vedo l'ora Io penso che aprirò proprio quello per primo Iniziamo Oh mio, cos'è questo? Ma questa è una foto del 2015 Ma ragazzi, ma qui si era sbagliato il sito, questo quanto va caricato su Holyfans Ma sì Oh Ma sì Bazzuto Immancabili le patatine, tra l'altro, cioè, incomprensibile quella giacchetta e poi le patatine davanti Non esiste È fatto apposto Eh, ma non esiste foto di Joseph senza patatine Senza patata? Non si va avanti ragazzi Non so perché, ma ho una vaga idea che secondo me arrivi all'ultimo Eh, pure io lo faccio Quella vaga impressione Risulta familiare Ti imbroglia Ovviamente Vabbè 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 Guarda che strano Incele, erano tu? Oh, l'ho finita io Ma non me Ma non è vero? Ma non è vero? Ma non è vero? Ma non è vero? Vabbè Vabbè, imbroglia quindi anche nei video Vabbè Ah, eh Eccolo Tuo avversario Eh, signor No, ma cacare Ed è noi No, ma cacare Hashtag devassi Vabbè 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 Bottutissima La Ma poi c'è gente che ci conosce benissimo Oh Bello però Bello il finale Il finale bellissimo Finale bellissimo Finale bellissimo Allora Qui ho lasciato like Allora Dovete un attimo rivedere Poi nel video Quando lui dice Eterno terzo posto Io dico Mando a cacare E contemporaneamente C'è scritto a schermo Volgarità E vengo sempre io Che è proprio un tempisco Perfetto L'edit perfetto Non esiste Cheat Fe le sue pelle Cos'è? Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzuoli Mi chiami il commercialista Borgonzio Pronto? Toglie la cuffia Ti ricordi Ti ricordi Giambra quando mi hai fatto una tasta cosa? Certo Che si toglie la cuffia Ma te la vorrò mettere in colla Certo Certo Ma che senso c'ha? Sì ciao Poi serissimo Il cambio di tono Sto cantando per te La dedico a te Non ho sentito niente Oh Dio Poi non sai nient'altro No Perdi tempo Ci sono io così all'improvviso Ma non è questa la canzone Ma non è questa la canzone Blaziken Blaziken Oh Abbiamo anche le perle di Blaziken Che ne le sue perle Ma nonno quando Mannaggia o cazzo Vale del tuo onore Ancio cazzo Ma questo l'avevamo già visto Forse l'ho visto io su tiktok Ma basta È normale che mi Albero di M togliti Eh vabbè No Dove sto andando Albero di merda togliti Allora però diciamo Sono quello più iconico io Sì Ah sì Su Mario Garzzi bro Su Mario Garzzi assolutamente No No E poi che altro? Vediamo All'arsenale Sicuramente Eccolo eccolo Giseee Vai 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 Giuse che tengo per te Che tengo pronto per te Mamma mia Mamma mia N'arsenale Deng Blaziken Ma lo vedi come sta casato C'hai preso benissimo Quando hai visto tutti I tre cusci rossi Si è po' fomentato bro Era un mondo quando è in guerra Blaziken Erano sei Però erano tre Più tre Eh fammi vedere che non mi Vedi che erano sei Ah no erano tre E tre funghi Ah Tre e tre funghi Cavolo Ma roba Vediamo un'arsenale E qui C'è il più forte del trio Oddio Oh Oh Eh signori Eh beh Ci sta Ci sta Best of Z vediamo Lo vince lui il torneo poi mi pare No fini tutti in bari mi pare Ah ok Mi sa mi esco No Giuseppe addirittura Best of Z non lo so perché vi dissi raga di rifare un attimo di rifare un rewatch dei best of z per effettivamente conteggiare i punti Io non l'ho mai fatto Ma loro lo sapranno sicuro Capsule opening Vabbè Vabbè Ma se multiversus non vinco io Lascio dislike Eh si quasi Ma Ma quando mai Fortissimo Ma come Eh vabbè Eh vabbè Eh dai Bull guys Signori Non ho sbagliato Da 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 Vabbè Vero 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 Vabbè Vabbè L'amicizia Il trio Bello Bello Eh no 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 è così è penso Tutti e tre Ma aspettavo una scritta perciò Bello 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 Un po' falsato Un po' falsato Però bello Dai Vi do minecraft Perché credo che Credo che sia l'unico gioco per me Anzi Voglio andare ancora più sul grave Voglio andare sul roblox Voglio andare sul roblox Voglio andare sul roblox a fare Ehi hai visto Quello è andato sotto Oh mio dio Ma che è questa cosa Si si vado su adopt me ragazzi E poi Ma come sentissimo a me Come senti Aspè 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 Fammi senti Che cazzo ho detto Ma non lo so bro Sì si vado su adopt Ah perché mi pare che mi dissero Eh tipo Roba tipo Eh tu beh non sei capace nel pvp Boh che non so Però ma sai che c'è Che durante questi Durante le live I bastardi che fanno in chat Mi trollano Quindi quando loro vedono Che io sto perdendo E quindi sto triggerato Loro ci mettono il carico Perché sanno che io poi impazzisco ancora di più No? Ma dovresti essere superiore Non dovresti cedere alle preoccupazioni Aspè Ah no Me ne vado su adopt me Faccio morire tutti quei cucciolotti Nooo Ecco perché sotto c'è la faccia demoniaca Non è un dissing a nessuno Salutiamo i cucciolotti Che ci seguono Vediamo Franza e le sue perle La palestra di Blazzi Gianfranco in realtà Quelle volte in cui ci diceva che Ehm Sarebbe dovuto andare via Perché La palestra Eccetera In realtà voleva andarsi a fare Una grassa Bella e sonora Puoi dire Puoi dire Vedici quello che puoi Dillo Pella Dillo E così già ci può stare Ma dicono Come la paella Ma no Bella Guardati No ancora meglio Chiava No Ma no Ma di chi è sto video Venti Blazzi Ma è matto Era mio Ragazzi Questo è bello Ragazzi Questa è stata la cosa più epica Ragazzi Questa è stata la cosa più epica Questa è bello Oh ma hai visto che nel nuovo DLC di Mario Kart mettono pure un nuovo personaggio? E chi è? Ligma bro Ma veramente? Bro si si chiama Ligma Ma dove è Ligma? Ligma e Bolt E' bellissimo quando lo dice Era felicissimo che lo scherzo fosse andato capito? Ma sei pazzi Non si riusciva a trattenere No, bro, io ero totalmente in oforia lì E chi è lì? Ma, bro, lì ho detto Senti, quando ti si apro tutte le porte del chakra Però il bello è che è venuto da ridere un botto pure a me, capisci? Proprio senza ridere un matto pure io Ma poi che cavolo mi rido pure io Ma roba da matti Mentre io stavo cercando di fare il record, mi sembra No, no Parliamo della sorella di Joseph No Sapete che la gente pensa che io ce l'abbia davvero una sorella Se voi continuate, non ce l'ho Allora, bro, è normale che la gente non lo sa Perché vive praticamente, costantemente sotto la mia scrivania Ragazzi, guarda, sei stato pessimo Comunque, raga, distronzate Ne abbiamo tirate veramente fuori un botto, raga Gokul Trestinto Bello, dai È visto Buono Buono, cazzarola, sì Perché non l'aveva trovato ancora, mi sa Gokul Trestinto nel primo triplo, mi ricorda qualcosa Oddio, oddio, Gokul Trestinto Quel giorno lì, ragazzi, mi avete tirato in faccia due Gokul Trestinto Porta di quella vacca È stato terribile quella volta lì, raga, madonna Vabbè, oh, rega, mo Cioè, io vi faccio vedere quanti ce ne stanno Cioè, ne avete fatti un botto Aspetta, bro, metti qui, su, 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 sali Quello lato dove io rido Ancora su, eh, questo dove rido Che su telefono? Sì, l'ho già visto 50 pagine aperte di soltanto Mi farono preferiti Ma salve a tutti i ragazzuoli Qui è Joseph Gemmer Cos'erano quelle inquadrature? Sì, per farti capire Lui è sempre stato visto come quello benino No, capito? Tutto quanto bello Posatello e poi, boh, i miei 50 pagine Vabbè, tu qua, tradimendo, mi hai chiappato Nei miei 5 minuti giornalieri di follia E ho la fortuna di registrarli Qua ti ho preso nel momento prime Cioè, bro, qui eri totalmente fuori di testa Ho ricevuto un botto di commenti Ma pure su Instagram, in privato Oh, Giuseppe, io non ti ho riconosciuto Cioè, è diverso, proprio Ma, raga, allora, quello che dovete capire voi È che siamo persone normalissime come voi Quindi, come guardate determinati video voi Li guardiamo pure noi Ma no per quello, fra Era per dire Ma no Comunque sia, ragazzuoli Io, innanzitutto, vi dico che per questo video è veramente tutto Di video sul Trinotarallo ne avete fatti una valanga Continuate a farli Perché tra i meme del Sburrosauro Ragazzi, ci sono 3 milioni Noi, ovviamente, faremo la reaction nei prossimi giorni Andate anche a seguire il profilo di Blazi E di Joseph su TikTok Credo che ce l'abbiate Eh, certo Ok Gianfranco, l'ultimo TikTok che ha fatto pareva che stava su Instagram, però Ho detto, raga, il mio TikTok in realtà non c'è, so questo Guarda, guarda, ha fatto una storia di Instagram, guarda No, ho detto semplicemente, raga, questo è il mio profilo Quante vi usi già? 220 mila Direttamente da Regina Celi Quando ne tengo? 250 mila Sono 12 mila e nemmeno Non so se comincerò mai ad utilizzare questo social, ve lo dico Però Volevo semplicemente Ma quando sto brutto qua, dai Staccate sta roba, basta Già sono creati dei fake Blaziken68 official Mi raccomando Ti ho mai fatto un Instagram storico, perché non ho capito che è un altro social Permettetemi di dire questa cosa Colgo l'occasione, raga, quello è il mio unico profilo Se vedete altra roba, non sono io Non so se lo sponsorizzano, ma scusi No, non so sponsorizzano Non vedi che non lo uso Voi ti chiedo la feed, la feed, Gianfrazio Almeno 100 euro No, è proprio per fare La feed è quella su code Ma io non lo uso, come vedete, non lo tengo Vabbè, ragazzi, ci vediamo con i prossimi video Che è entrato nella modalità Prime e dobbiamo approfittare Ciao a tutti Ciao a tutti